Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato-Ovest e l'allacciamento con la 1 e il traffico si sta intensificando sempre verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Beretola. Traffico intenso anche in Fipilì in direzione Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandici. Per i treni a seguito di attivazione del sistema di controllo della linea la circolazione dei treni da Marradi a Faenza e Sospesa ha attivato il sistema di bus sostitutivi. Per vari inconvenienti sulle linee per il maltempo tra le stazioni di Piazza Alselchio e Castelnuovo tra quelle di Vaglia e Campomigliaio e nei pressi della stazione di Piteccio i treni sulle rispettive linee subiranno cancellazioni o variazioni. Ed è tutto, buon viaggio!